Musica Diciamo subito che questa, da quanto abbiamo capito negli ultimi anni, è la tendenza. È il trend, è la creazione di questi, diciamo così, grandi laboratori con i punti di raccolta, con i punti pick up radicati sul territorio. Musica Lugger ha cominciato con un impianto che era un ricompostore automatico, ha aggiunto un impianto di spazio, ha aggiunto l'imbutatrice, cioè sono tutti step che ha fatto nel tempo quando ne ha avuto bisogno. Musica 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 Il nuovo Presidente Paolo Cattabia che combina questa carica, diciamo così associativa, di una figura associativa politica con quella naturalmente di Presidente, di Macbi. Da ormai molti anni si è naturalmente, ha buttato, ha capitalizzato l'esperienza e la competenza nell'ambito dell'abbigliamento e della confezione nella lavanderia. Qui si riesce a toccare con mano la credibilità di un'azienda e l'efficienza del prodotto. Avevamo pensato a dare a Lucero una piccola carga di ricordo della giornata. Grazie a tutti.